l'altra volta si è ammazzato il palo perché torna indietro c'è chiacchia c'è non ho capito 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 prima o poi la ripulliamo quella lì è subito in cima dove c'è il paletto di ferro tanto ci ha appiccicato il vito non ho capito non ho capito bravo fanno uscire rovi 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 lì è l'unico pezzettino dove ci sono è l'unico pezzo da pulire sicuro lì è lì è lì è lì è lì è lì che fanno Siamo insieme al macete sei in mezzo cazzarola non riesco a tirarlo via tira sfera almeno sbaracchiamo un po' questo è quello del gatto no quello del gatto era tagliato è già ricresciuto così tanto te ne ordiniamo una ecco c'è spuglio qua non c'è verso eh ha sempre rotto i maroni da 40 anni figaro è sempre qua e nessuno ti vuole togliere o tagliare del tutto però cazzo con tutto il posto che c'hai figaro è che va si fa su sulla quercia cazzo ah 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 buono fin anno prossimo penso che non ci rompi più i maroni adesso eh no tagliato così ascolta no sono usciti in strada oh e che scauro guarda oh questo qua non possiamo toglierlo da qua si buca le gomme per esempio guarda oh incredibile eh cazzo fa di quelle di quei ponti figaro eh sì eh e se poi lo rilasci anche qua tutto si sta qui sopra ma le trovi si si afficcicano nella maniera ma i pantaloni per i porti dietro ah e che quasi aia che cosa sono queste canne qua che arbusto è fanno sui cose che mangiano i merli che roba i fiori li diventano tutti neri si ah non c'è dei miei guarda guarda ah guarda secondo me non cresce più fino a un bel pezzo eh per un bel pezzo lì qua è libera cresce fino a qua, fino a lì è pulita sì sì beh ma però perlomeno basta a posto fino a su in piano è pulita no questa sarà verifica ok vuoi andare è accesa già accesa tu che non la sai? perché non mi ricordo di averla fatto? io ho finito ciapa chi? ciapa chi? ciapa là si va bene non mi ricordo All right.